Gli interventi realizzati in Laguna di Venezia, dagli interramenti delle casse di colmata allo scavo del canale dei petroli e infine alla costruzione di un'enorme isola che ostacola la bocca di San Nicolò, sono stati sempre più non curanti dei dettami sui quali si basa l'equilibrio idrostatico artificiale della laguna. In questa cartina vediamo l'equilibrio come fu progettato dai veneziani, che lo realizzarono con successo attraverso grandi opere di canalizzazione lagunare e fluviale. Raggiungere l'equilibrio idrodinamico, capace di garantire forma stabile e salubre alla laguna, fu un impegno che richiese circa quattro secoli, dal 1300 al 1700. Tra gli effetti principali di questo equilibrio fu la normalizzazione dei flussi di marea nel centro storico in direzione est-ovest lungo le vene principali di Canale della Giudecca, Canal Grande e Canale di Fondamente Nuove. Al breve e quieto tragitto di marea in direzione est-ovest realizzato dai veneziani, si è oggi sostituito un vortice nord-sud che pompa e aspira l'acqua nel centro storico con una forza tale da erodere le murature e asportare il fango dai fondali. Vediamo come l'isola artificiale nella bocca di San Nicolò abbia portato due vene di scarico diretto della laguna nord a confliggere fra loro, aumentando la pressione di deflusso della marea sui piccoli rii nord-sud del centro storico. Questo causa gravi e diffusi danni alla struttura di fondazione dell'intera città. Prendiamo lo spunto da uno dei più recenti crolli, quello avvenuto alla biforcazione fra il rio di Santi Apostoli e il rio del Gotti. Tale angolo di casa è fra i più esposti al dente della marea calante che viene resa sempre più veloce e vorticosa dall'enorme risucchio esercitato dal canale dei petrogli, divenuto recentemente ancora più efficace nella sua azione distruttiva a causa del restringimento della bocca di San Nicolò. I danni, come quello che vediamo, sono solo le pustole superficiali di cedimenti ben più diffusi e generali dell'edificio in questione. Cedimenti delle fondazioni sono chiaramente segnalati dalla ragnatela di Crepe che si aprono a ventaglio lungo i muri dell'edificio, a partire dall'angolo esposto al dente della marea. Quanto sia ampia la zona interessata dal movimento strutturale, viene messo bene in evidenza dal parancolato posto in opera a tutela della viabilità e delle reti fognarie, come pomposamente dichiara il cartello del cantiere, filmato alcuni giorni dopo le riprese dell'11 novembre 2010, precisamente il 24 novembre. L'acqua, alla velocità che le si è consentito di prendere, esercita tre azioni coordinate. Prima è l'azione erosiva delle murature che, affondando più veloce nelle malte, finisce con il creare spazi vuoti dietro le pietre. Seconda, l'ingolfarsi delle onde in questi vuoti che, per il principio di Pascal, viene a effettuare una vera e propria leva idraulica pulsante che spinge le pietre verso l'esterno fino a farle cadere. La terza azione dell'acqua troppo veloce è meno appariscente ma assai più temibile delle altre. Parliamo dell'asportazione continua di fango dai fondali, un fenomeno che, già drammatico nella laguna di Mezzo, direttamente a ridosso del canale dei Petroli, è divenuto oggi significativo anche in moltissimi righi del centro storico. Si tratta soprattutto dei rii orientati nord-sud, come questo di Santi Apostoli, che, per impostazione naturale, fissata e artificialmente conservata integra per secoli, dovrebbero canalizzare solo deboli movimenti di flusso e riflusso. Movimenti collegati allo scorrimento, lento d'abbrivio, da San Giuliano a San Nicolò, delle tre vene principali, il canale della Giudecca, il canale grande e il canale di fondamenta nuove. Attualmente, invece, mentre ogni sedicente autorità tace e tace la stampa sui crolli e sulla condizione generale delle fondazioni cittadine, all'imbocco di questi rii si impone il fronte di una marea calante che arriva con la rincorsa di chilometri dalle barene di Burano e Tessera e, filtrando attraverso i piccoli rii, si scarica a vortice per il canale grande e quello della Giudecca. Solo per rimanere vicini al luogo del crollo più recente, vediamo che anche l'angolo di fronte presenta crepe d'accedimento delle fondazioni e così l'angolo con il rio di Santa Caterina più a nord e quello con il rio Wittmann più a sud. Quest'angolo, come molti altri, oltre alle crepe, mostra chiaramente i segni di crolli recenti e di non lieve entità, come indica il tamponamento con mattoni nuovi. Analoghi movimenti si riscontrano sull'angolo opposto. Poco oltre nel rio Wittmann, vediamo la biforcazione con il rio di Santa Maria dei Miracoli. Sono canali interni e minori, dove il flusso d'acqua dovrebbe essere limitato al minimo necessario per il ricambio. Invece la corrente scorre veloce e, scavando i fondali, provoca lo scivolamento e l'inclinazione delle fondazioni, movimenti che si manifestano con i ventagli di crepe che possiamo vedere. Osserviamo quelle che minano, per oltre 10 metri, l'angolo in esame. Una, due, tre, quattro, cinque. Il crollo in rio del Gozzi non è che uno delle centinaia che ormai da anni, sordidamente, vengono raffazzonate con tamponamenti di calcestruzzo o di mattoni di ogni foggia e colore, al punto di ridurre i nostri muri a patchwork, dove spesso i mattoni più nuovi sono persino più malconci dei vecchi, data la scadente qualità delle moderne pietre edificatorie. Possiamo rilevare crepe, tamponamenti, voragini, turbolenze, percorrendo il rio di Santa Caterina, quello di San Felice o quello di Noale. Poi nei rii più interni o tra i Canal Grande, come quello di San Polo, dove vediamo il cedimento differenziato della spalla di Ponte Bernardo rispetto alle fondazioni del muro di cinta adiacente. Nel rio delle Muneghette, ancora più interno e quieto, oggi le turbolenze sono quanto mai preoccupanti, come preoccupante al loro effetto sugli edifici. con le ragazzi del mondo di San Felice o come riche di Vincenzo, Scraggio di San Felice o come e con un buone amore, con la spalla di San Felice o come per ecstasy, come un buone amore di San Felice o come per ecstasy, anche per ecstasy o come per ecstasy o come per ecstasy. Seguiamo le evoluzioni del foglio bianco che vediamo affiorare. Esse mostrano come, alla turbolenza visibile nelle increspature della superficie, corrispondano correnti vorticose in profondità. Il foglio finisce incollato al muro, segno della probabile presenza di una voragine interna, capace di risucchiare acqua attraverso la muratura. Chiunque si muova in barca per Venezia può osservare che questi fenomeni sono ormai endemici e tali da mettere in pericolo non solo gli edifici ma, perdurando l'incuria per le leggi lagunari, le stesse terre immerse su cui gli edifici sono costruiti. Abbiamo evidenza di questa affermazione, osservando la sorte in atto per le isole più esposte e meno difese dall'azione di risucchio della Bocca di Alberoni. Queste isole, con le proprie condizioni, illustrano il progredire della distruzione verso il centro storico. Quasi totale erosione per quelle più vicine al mare, dove i vortici creati dal canale dei Petroli e dal tappo a San Nicolò raggiungono il pieno della loro potenza e velocità. Rivola Vecchia, Cornio, Torzon di Sotto, Fisolo sono ormai non più abitabili e praticamente scomparse. Gravissime le condizioni per le isole centrali in Laguna di Mezzo. Batteria Poveglia e Batteria Podo hanno perso le mura che sono ormai divenute detrito di marea per centinaia di metri attorno. Una sorte simile si affaccia per le isole più a ridosso del centro storico, come Santa Maria della Grazia e San Giorgio in Alega. Sono isole che erano ancora perfettamente integre negli anni settanta e che solo negli ultimi dieci anni hanno cominciato a mostrare danni strutturali causati dall'azione erosiva delle acque. Pur recenti, questi danni progrediscono con inquietante accelerazione. Vale purtroppo per il fenomeno un effetto di incremento costante per il quale più potente è la corrente e più scava, più scava e più potente diviene. Le acque lagunari devono venire governate nell'esclusiva osservazione delle loro leggi naturali, sottili e complesse quanto imprescindibili. Non è ammissibile che del gioiello idraulico costruito dai veneziani si faccia preda da sbranare in canee di interessi privati associati a delinquere contro la Repubblica sotto forma di partiti. Non solo ciò non è ammissibile per alcun veneziano degno di questo nome, ma come stiamo vedendo non viene consentito dalla natura stessa che a fronte dell'insipienza colpevole dell'uomo vuole riconquistare al mare e all'instabilità costiera la gemma che aveva consentito a ben altri uomini. Il bene comune dei veneziani, raffigurato a chiave di volta nel palazzo dei Camerlenghi, come un putto alato e calvo che reca la cornucopia. Bambino perché come un bimbo richiede cura amorevole e disinteressata, alato perché ideale prima che materiale, calvo perché nessuno possa afferrarlo per i capelli e trarlo dalla sua parte. Solo così concepita la Repubblica reca prosperità e abbondanza al popolo. Solo così concepita. Grazie a tutti.